Adesso sono anche sulla salvia e la salvia aspetta un po', non la raccolgono subito, è pronta adesso per essere raccolta. E prima danno priorità a tutta un'altra serie di fioriture e poi a queste altre. Adesso sono anche su il trifoglio perché ha preso un po' di sole, poi in parte il trifoglio adesso sta andando a sfiorire. Comunque ce l'hanno ancora presente e lo stanno raccogliendo, cosa più importante. Sta partendo la malva che infatti la stanno raccogliendo, quella che gli ho lasciato. Eccole qua all'interno. Eccole qua la malva che ha fiorito e loro la stanno raccogliendo. Ne sono veramente tante di piante di malva. Loro adesso hanno un'attività molto importante. Adesso ve la mostro. Per fortuna. Guardate che belle. Per fortuna gli sta permettendo di raccogliere. E' un'attività molto importante. Un saluto a tutti e al prossimo video.